I dolmen. Cosa significa? La parola dolmen viene dal bretone. Tol uguale tavola, men uguale pietra. Quando? Furono costruiti tra il VI e il II millennio a.C. Che cos'erano? I dolmen erano camere funerarie, costituite da tre o più grosse pietre, piantate in modo verticale nel terreno, che sostengono un masso orizzontale. Dove sono stati trovati? Sono stati ritrovati nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Italia e in Spagna. E il loro valore? Con i dolmen abbiamo l'evidente riconoscimento del luogo dei morti come uno spazio sacro.